ciao ragazzi sono mari il coach è un po che non ci si sente ma purtroppo mi sto rendendo conto che migliorare la qualità la comunicazione far arrivare il messaggio non è semplice ma io ci sto provando per capire bene quando ti avvicino al mio canale ti consiglio di andare nelle playlist di guardare effettivamente quello che ti può interessare perché ci sono playlist dedicati agli allenamenti in palestra ci sono le playlist dedicata agli allenamenti fuori dalla palestra quindi allenarti dove vuoi oppure c'è la playlist il coach ti parla e oggi farò nascere la sezione il coach ti spiega è una sezione in cui ci tengo particolarmente perché è quella sezione che voglio far nascere per andarti a spiegare effettivamente questi video allenamento che stiamo carregando ti ricordo che sono video allenamento completi nelle descrizioni trovi sempre i dettagli e per qualsiasi altra informazione basta scrivere e visto che ci sei lascia un mi piace iscriviti al canale e attiva la campanellina ok ragazzi detto questo perché mi pare che funziona un po così io sono nuovo di questo settore parlo del settore video quindi mi interesserebbe effettivamente migliorarlo se avete qualche consiglio magari lo scrivete anche sotto allora ragazzi questa sezione principalmente la voglio far nascere perché i video allenamento sono importanti sono video allenamento completi spesso si parla solo di riscaldamento o si parla di workout si parla di numeri di giri si parla di tipologia di allenamento si parla di metodologia di allenamento si parla di protocolli di allenamento si parla di programmazione di allenamento quindi sono tanti concetti che effettivamente magari anche nelle descrizioni alcune volte non sono molto chiaro oppure nelle descrizioni a spiegarti effettivamente alcune cose quindi ecco perché adesso faccio nascere questa sezione proprio per andarti a spiegare ogni tipologia di allenamento quindi negli allenamenti vari che ho caricato che si possono applicare con facilità perché esistono esistono transizioni adatte esistono didattiche adatte è proprio questo che voglio spiegarti voglio farti capire che questo canale c'è la qualità spero almeno è quello che sto provando a fare voglio farti capire che ci sto mettendo tutto me stesso sto mettendo tutta la mia conoscenza e tutta la mia esperienza in questo settore voglio farti arrivare bene il messaggio voglio farti capire che punto molto sulla qualità che mi conosce lo sa benissimo questo quindi le mie energie le mie forze oggi le voglio aprire un po in questo mondo digitale ma mi fa piacere ho voluto sposare questo progetto ci ho investito tanto voglio investirci tanto e voglio che questo messaggio arrivi chiaro e sicuro quindi ragazzi mi raccomando supportatevi con un bel mi piace iscriviti al canale riguarda attentamente perché questa nuova sezione sarà una sezione importantissima che ti sarà molto utile per te che vuoi allenarti o che magari ti vuoi avvicinare all'allenamento e vuoi capire magari come si fa uno squat come si può fare l'affondo come poggiare bene i piedi a terra sì ragazzi perché a terra parte veramente tutto voglio spiegarti come utilizzare l'addome voglio spiegarti come come si può eseguire fondamentalmente un esercizio senza che tu corra nell'infortunio perché poi la maggior parte delle volte succede proprio questo nella fretta nella velocità nell'incapacità di spiegartelo perché io dico sempre che la colpa non è mai tua se non stai a eseguire l'esercizio ma semmai è il nostro quindi ragazzi concludendo spero che questa nuova sezione ti piacerà ti invito ancora a lasciare un mi piace e ad iscriverti al canale attiva la campanellina perché solo così potrai avere le notifiche e noi poi ci vediamo alla prossima e come sempre allenati bene ciao ciao